Ciao a tutti, sono io, è me, è me, è me, è me, è me, è me again, Bad in Action World by Andrea DJ Bomber. Ho avuto qualche giorno di febbre, ho la voce un po' rocca, però il mio house feeling full of power, è sempre più acceso e sempre più potente. Oggi voglio celebrare un momento molto particolare perché sono arrivato alla Bad in Action Listen It number 11, 11, un numero fortunato per me perché sono nato l'11-11 del 65 che fa 11 e quest'anno sono 47 che fa sempre 11, quindi 11 è un numero veri 11. oggi è un giorno in Pianello Valtidone, Italia, Piacenza, Italia, the valley of house music, e Bad in Action World is plugged in. Sono in mio studio qui in Pianello Valtidone, Piacenza, Italia e sono pronti per cominciare questa nuova Listen It con un obiettivo molto interessante. No sex, perché? Perché no sex? Non ho sentito a me che le persone amano fare sex, fare amore e divertirà. Ok, in questo show, ho usato la musica di casa per aprire le foglie di sex. Ok, sono pronti? Let's go! Bad in Action World number 11, no sex, perché? Bad in Action World is around you. Welcome to Bad in Action World. If you want to be a part of this, follow me and share it to have fun. Bad in Action World, house music by Andrea DJ Bonde. Ciao! Why no sex? Ladies and gents, make love and have fun. Don't worry about the troubles around us. Make sex, make love and make fun. Bad in Action World is now starting! 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 Grazie a tutti 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 Bad in action Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Steve Angelo, stasera live, Trezzo Dada, Don Messe, from South Records, a big guy from Swedish House Mafia, Enzo! Ne approfitto per ringraziare 913 followers che mi seguono, mi ascoltano e mi vogliono bene, ok share it, and have fun, thank you very much for your following. E vi ricordo stasera nella Baltidone, The Valley of House Music, un po' di rock cover, La Baracca Bar, Nibiano, Baltidone Piacenza Italy, il ritorno di una band called The Harrod, Red Hot Chili Peppers and more, don't forget, go and have fun. Ladies and gentlemen, welcome to Night 909, taking you on a journey, all around the world. With the tactics, Steve Angelo, you're done, they make you? Are you breaking? Are you breaking? Madimaxian world is around you. Welcome to Madimaxian world. We are terminus! Let's go! Let it rush! Let it rush! Madimaxian world is around you. Welcome to Belly Necky Zone. I E I 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 G I I I I, I I I I We милли this! 무�ited,passen quan座! Sped in action world around you welcome to sped in action world What a rest Damn E dopo questo fenomenale pezzo di Steve Aoki, Layback Duke e Lil Jon Prendo un attimino di relaxing time Per ricordare tutti i miei amici che non ci sono più Vi ringrazio tutti, siete nel mio cuore, siete la mia energia In qualsiasi momento del giorno e della notte vi penso E vi ringrazio ancora perché da lassù mi date sempre un occhio Grazie ragazzi, un abbraccio e un bacio Ciao Bad in Action World by Andrea DJ Bomber Chiude questa puntata chiamata No Sex Wife Bad in Action 11 Con un grosso augurio e bacio e abbraccio a tutti Alle prossime Stay tuned Have fun Share it Listen it I will be back on stage Maybe Bye Bye